Dal fare la conta delle macerie, cominceremo da questo, cominceremo a contare le macerie di quello che abbiamo ereditato e dopodiché inizieremo a ricostruire esattamente come abbiamo scritto nel programma di governo. Non è soltanto festa questa, questa è sicuramente un momento di rottura rispetto al passato, ma io sento forte perché sono una persona consapevole di quello che è questo momento, che realmente è un cambiamento storico per questa città, dovremo fare bene. L'Italia ci guarda con grande attenzione.